mi dite sempre che non faccio video con qualcuno che cucina in una maniera che mi garba ecco questo è un video fatto con uno che cucina in una maniera che mi garba togliamo il fatto che siamo anche amici non vale perché potrei prenderlo a parlaccio se cucinasse male ma vi faccio notare una serie di cose prima di tutto lui cucina una carne non classica e già questo io lo adoro poi che fa? porta a temperatura alta ma non altissima copre tutta la padella in maniera tale da non far bruciare fa la maillard la fa riposare e poi dopo la taglia eccola qua una meravigliosa tagliata di zebra ora ditemi se non sareste incuriositi nel provare questa carne qua lui è molto bravo per una ragione molto semplice che lui unisce tecnica di cucina a simpatia e curiosità seguitelo grazie a tutti grazie a tutti